Nelle prime ore di questa mattina la squadra mobile di Teramo nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla locale procura della Repubblica ha dato esecuzione all'ordinanza con la quale il GIP di Teramo ha applicato la misura cautelare del carcere per sei componenti della famiglia d'Etnia Rom residente ad Albadriatica all'interno della nota Casa Rosa ed in particolare nei confronti di quattro donne e due uomini e la misura cautelare del divieto di dimora in Teramo e provincia per altri tre uomini componenti del suddetto nucleo familiare. L'attività di indagine avviata nel mese di settembre 2021 ha permesso di documentare che i soggetti colpiti dalla predetta misura cedevano in maniera sistematica sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina in quantità da mezzo grammo sino a due grammi per volta a numerosi acquirenti che quotidianamente si susseguivano senza necessità di contatti preparatori all'interno della predetta casa per acquistare lo stupefacente. Era un problema atavico mi avevano detto in quella zona di Val Vibrata e comunque di Albadriatica però diciamo che il lavoro certosino dei nostri investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica ha fatto sì che in maniera diciamo così classica come indagine senza ricorrere a particolari strumentazioni col sudore, con la fatica, con l'abnegazione, con il senso del dovere, con il senso di responsabilità nei confronti della collettività, con tutti questi fattori e queste funzioni siamo riusciti a eliminare come ho detto prima questa metastasi dal comune di Albadriatica. Metastasi che interessava anche purtroppo gente e ragazzi delle vicine marche della provincia marchigiana oltre che del territorio della provincia di Teramo per cui è stata una cosa di vasto respiro che sicuramente restituirà un po' di serenità alla collettività di Albadriatica e alla provincia di Teramo e in parte anche delle marche che insomma non è una cosa di poco conto. Tendenzialmente allo Stato, dalle informazioni che abbiamo noi, era l'etnia Rom quella che ha creato questo grosso problema che abbiamo risolto. Non sentirei dire parzialmente, abbiamo risolto al momento. Sono stati numerosi gli agenti messi in campo proprio per portare a termine questa operazione. Debo ringraziare il reparto prevenzione del crimine di Pescara che ci ha dato una buona mano, l'elicottero, quindi il poli e i reparti cinofili. Anche gli amici animali fanno la loro parte in queste situazioni. Ringrazio anche loro e i loro conduttori.